Ho deciso di risparmiare un vestito nella mia casa. Con una caldaia condensazione Junkers-Bosch abbinata ai pannelli solari, ho ridotto i consumi e aiuto l'ambiente. E con le detrazioni fiscali risparmio. Infatti, il 65% della spesa sostenuta mi viene restituita direttamente dallo Stato. Per la migliore soluzione alle mie esigenze, mi sono rivolta ad un consulente del centro assistenza ufficiale SAR Service. Si occupano anche della manutenzione delle caldaie. Ho anche steso la garanzia della mia caldaia a 5 anni. Così, in caso di necessità, basta una telefonata e posso stare tranquilla. Veloci, disponibili, competenti. SAR Service, buongiorno. Le mando subito un tecnico. Per il calore di casa tua, scegli i prodotti Junkers-Bosch e l'assistenza SAR Service.